Si tinge di giallo il match fra Giffonese e Sporting Ponte Cagnano, giocato sabato e conclusosi con la vittoria dei padroni di casa per tre reti a zero. La Giffonese infatti avrebbe schierato un giocatore, il numero 8, non inserito nell'elenco fornito all'arbitro prima dell'inizio della partita. Una circostanza che ha fatto scattare l'allarme fra i membri dello staff dello Sporting Ponte Cagnano, che nelle prossime ore potrebbe presentare ricorso e chiedere la vittoria a tavolino. Grazie.